Allo Stadio Giumoni di Cassione del Lago si sono affrontate oggi la Trasimeno di Fabio Cagiola e il Tavernele di Stefano Sargentini. Una partita per entrambe delicata e importante a fine della classifica. Passiamo alla cronaca. Al quinto i padroni di casa sprecono una ghiotta occasione da gol su un invito ad hoc di Scarpelli. Si preannuncia una partita molto tirata e sofferta per la Trasimeno, considerato che il Tavernele è sceso in campo agguerrito sin dalle prime battute. Passano i minuti e la Trasimeno ancora non riesce a trovare la via del gol per merito del Tavernele che fa buona guardia agli attacchi biancorossi. Si conclude così il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa al primo minuto il Tavernele colpisce a freddo con Fedicino che da fuori area fa partire un diagonale che sorprende Marconi e apparso fuori posizioni. Tavernele 1, Trasimeno 0. Al sesto ci prova con forza Gibbs da 30 metri che sfiora di poco il palo. La Trasimeno prova a reagire dopo aver subito il colpo ma gli uomini di Cagiola sembrano non avere le idee chiare di come buttare giù il muro dei gialloverdi. Al ventesimo il Tavernele raddoppia con Galizzi che sfrutta una confusione della retroguardia brancorossa. Trasimeno 0, Tavernele 2. Al ventunesimo capolavoro di Bevilacqua che accorcia le distanze. Trasimeno 1, Tavernele 2. La Trasimeno spinge sull'acceleratore per cercare di pareggiare i conti ma gli ospiti non concedono nulla e la partita termina così con la vittoria del Tavernele sulla Trasimeno. Tre punti importanti che valgono sei visto l'avversario che è una corazzata. Valgono sempre tre punti. Noi dobbiamo fare il nostro campionato al di là della Trasimeno, chiunque squadra si affronta, i tre punti sono sempre tre punti. L'abbiamo preparato bene durante la settimana limitando gli esterni che sapevamo che loro sono forti con Miccio, Bevilacqua. L'abbiamo limitato e abbiamo portato tre punti a casa che per noi sono fondamentali. Una sconfitta inaspettata, che cosa è che non ha funzionato? Un famoso allenatore della pallavolo, non so se era Velasquez oppure Montali, che chi vince festeggia e chi perde parla. Io non voglio riparlare, però dico soltanto che siamo mancati probabilmente allo caratteriale. Probabilmente quella che è la cosa più importante mia, dove ci ho fatto, diciamo, la mia fortuna come giocatore, come allenatore, il carattere. Probabilmente ho parlato una lingua differente, ma sicuramente in settimana saprò farmi perdonare allo caratteriale, sicuramente. Abbiamo giocato contro una squadra ben messa in campo, una squadra forte fisicamente, una squadra che ha anche delle qualità importanti, non ci scordiamo, perché è una nuova raggiocatore, è anche importante questa squadra. E noi gli altri purtroppo abbiamo analizzato, abbiamo letto male la gara e soprattutto perdere senza un tiro a un porta dispiace. E analizzeremo, come ripeto, parleremo dentro lo spogliatore, analizzeremo e andremo avanti, senza ombra di dubbio.